gli obiettivi degli elettori, perché ricordiamoci questo, che noi abbiamo purtroppo in questa società, non soltanto società occidentale, ma anche in generale, abbiamo invertito la causa con l'effetto, perché diamo potere ai politici, mentre i politici dovrebbero essere al servizio, cioè i politici dovrebbero essere al servizio della popolazione, dovrebbero essere delle persone che sono dedicate al servizio della popolazione, in realtà succede spesso il contrario e quindi hanno anche un senso di superiorità, diffidate di tutti questi politici che hanno questo senso di superiorità, che si considerano superiori agli altri, soprattutto se hanno funzioni governative, si trincerano, si mettono...